Un saluto a tutti dalla voce di Bruno Pizzu. La richiesta andiamo a leggere il girone di promozione A dell'Emilia Romagna dopo la 27esima giornata. Al primo posto troviamo Ponte Nurese con 54 punti, al secondo posto con 52, Tonetto Sansecondo con 49 punti, al terzo posto Gotico Garibaldina con 47 punti. Troviamo Bobbianese con 42 punti, Carignano con 41 punti, Noceto con 40 punti, Felino con 37 punti, Polisportiva Brescello con 35 punti, Ansenese con 34 punti, Carpaneto, Chero 1922 con 33 punti, Polisportiva Il Cervo con 31 punti, Futura Fornovo, Modesano con 29 punti. Terme dei Monticelli con 28 punti troviamo Solignano Pier e Vigolo Marchese con 27 punti, Chiude, Team Traversetolo. Un saluto a tutti i tifosi d'Italia, è tutto molto bello! Grazie! 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 Grazie a tutti.